Burloni, se volete comprare giochi a prezzi scontatissimi ho iniziato una collaborazione con Instant Gaming, trovate il link nella descrizione, guardate che prezzi sono Minecraft a 19€ invece di 25€, la versione di Windows 10 a 4€ e 45€ invece di 12€, qualcosa del genere, e non per ultimo c'è GTA a 12€, ma ci sono un sacco di altri giochi come per dire Animal Crossing che sta per uscire e porterò il live insieme a voi a 47€ invece di tipo 60€ e qualcosa. Il link l'ho trovato in descrizione, è una collaborazione così ci guadagno sia io che voi e io ci guadagno per far crescere il canale. Adesso via all'intro. Ragazzi, ma avete già barato, ma non vale. Ragazzi, non usiamo parole brutte. Una corsa per famiglie, per favore. Nelle famiglie non si bara. Saluto Valentina, Sad e Babbaland che hanno trovato il vero burlino all'interno degli scorsi video, se volete essere sotto anche voi trovate il vero burlino all'interno di questo video e scrivete nei commenti il minuto in cui appare. Stiamo sbagliando strada? Bravi. Sì, voi sì. Ciao, buon viaggio. Io sto facendo la mia strada. Vabbè, me ne hai dato un'altra, me ne faccio un'altra, pazienza. Io seguo Marci. Vediamo. Piccoli amici assieme. Non ci sono gli stessi, quindi non sto allungando. Perché è sempre di notte queste corse? Tanto la vera gara è quando si arriva là. È la salita, ragazzi. Lì ci perdiamo anni di vita. Ragazzi, è il riscaldamento. È il nulla cosmico. È la nulla di miele prima della tempesta. Perché ho male auto perfettamente una fianca all'altra per non farmi passare, guarda. Più fastidiosi di Marco. No, no, no. Più fastidiosi di Marco. Più fastidiosi dei parcheggi, dei pareggi, dei pareggi e di una sacchiazza. Perché Bara e via. Di set che Bara. No, ma poi non avete visto cosa è successo, ragazzi. Non lo so, ragazzi. Mi sospetto il joystick che so da spazio. Alla fine mi ha allungato sta cavolo di strada. Vi sto distruggendo, allora. Ma tanto dopo l'importante, Stef. Su. Forza, tranquilla. Adesso vedete che è la cosa più facile del mondo. In pratica ogni volta che arriviamo a Monteciglia è il primo che arriva a fa esplodere gli altri. Per una volta riusciamo a fare una classifica. Ma è sempre così, Marco. Anche senza dirlo è sempre così. Non lo so io. No, la classifica non c'è. Va bene. Che problema? Eh, la mia macchia non girà più. Eh, ma io ho perso tutto il muso, raga. A quanti chilometri siete? Io sono a 7.5. Noi, io e Marci siamo uguali. Quattro. Madonna, guardate quell'altro che tryarda. Hai perso tutto, Marci? Sì, sì, non ho più niente. Non ho più niente. Io ho perso tutto il muso, eh. Quindi comunque sono uguale a te. Per adesso però va bene. Ragazzi, l'importante è non perdere la campiocinaggine. La? Te fosti tryhardando. Campiocinaggine. Campioncina. Ma questa voglio farvela vincere io, raga. È per quello che sto tryhardando. No, ma sento. Guarda, ragazzi, qualcuno lo picchi. Qualcuno lo deve picchiare. Qualcuno lo vuole picchiare. No, no, perché è vero. Quando uno dice così, rovina tutto. Perché, se è vero, non ha più senso vincere. Porca miseria, quante auto da scrivere. Se non è vero è talmente fallito da dire frasi di circostanza per giustificare la scuola. Eh, ma tu non sai se è vero o no. No, ragazzi. Sono un po' dietro di te. Io sto iniziando a scalare, ragazzi. Problema è che sto diventando problematico avere tutti questi accidenti di auto. Nell'autostrada. Dove vuole quell'altro? Tu non è vero che stai scalando. E che sto salendo? Ma mi spostate, porca miseria. Ma dove? Non ci stai? Sto salendo dall'altro lato? Sì, sì. Va bene. Dall'inferno stai salendo. No, c'è una gang cattivissima. Scappa! Schivali! Io sono arrabbiato. Oh, no. Io sono sempre arrabbiata quando faccio i video. Oh, no. Ragazzi, io sto tentando di salire. in modo inusuale. Ragazzi, devo salire. Hai perso? Anche a me non gira. È tranquillo, Stef. Quindi saliamo di qua. Ragazzi, mi racconto, parliamo però nel video. Tranquilli. Stato sta traiardando. No, perché io ho sbagliato strada. Quello è il mio problema. Ragazzi, non usate il turbo. Ok. No, beh, in effetti no. Non era una buona idea. Ok. Allora. Vi dico. Pensavo molto peggio. Pensavo molto peggio. Ma mi ha levato il segno. Cioè, io che ne so dove devo andare. Fammelo vedere. Uguale. Ah, non me lo fa più vedere. Vabbè, penso di dover andare dritta. Chi è quello non in strada che sta scalando qui bene? Io. È Marci. È questa Marci. Guarda. È Marci. Cosa intendi? Marci è il primo. Eh, Steph, mi hai messo alla prova prima. Ma perché lui sa tutti quanti i trucchi, ragazzi? È un cheater. No, è che Steph, prima mi ha messo alla prova. Mi ha detto che stavo barando e tutto. Però si tratta di Monteciliad. È proprio un citone. È veramente un campioncino. È un cereale. Uno unico. Esatto. È un'altra sicura. Più o meno. Non è tanto sicura. Dai, ragazzi. Non esiste un'altra sicura del Monteciliad. Non è tanto sicura. È veramente difficile sto questo. È l'inferro. Altro che sicura. Sto iniziando a sbandare perché l'auto tutta rotta e qui non regge proprio. Io sto cercando di recuperare il citone. Ma dove sei finito tu? Orca, ragazzi. Non è riattaccato. Ottimo. Sì, la stradina è bellissima. Ah. Incredibile. Ma io non ho accettato comunque. Oh, cacchio. Sì, che è eccitato. Era un cheat, secondo voi, raga? Sì. Allora, comunque sembra più semplice scalare che con il quad. Sì. Non lo so, eh. Sì, sì. A me sembra proprio così. Più che altro ogni tanto inizio a slittare e vado e vuole. Amici. Amici. È arrivato. No, sali, 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 non ti castrare. Ma guarda te. Tipo quattro secondi prima sto sci... Sì, ma parliamo nei ragazzi che so qua stato zitto tutto il tempo, eh. Ma non è vero. Cioè, lui non ha fatto il video. Cioè, boh, va bene. Sì, è così, è così, eh. Ma non è vero. Sì, sì, sì. Quella ha fatto un volo carpiato. Una roba incredibile. Allora, io sto dietro di Steph comunque. Penso sia Steph quello. No, Ferry, mi sa che c'è di me. Questa è una gara che sale prima. No, dai! Ho detto prima. Ma forse è mare. Dai, ho usato anche il turbo, non va. Ci siamo bloccati. Ragazzi. Questa è una sfida, F. S'arrivano anche gli altri e peggio. Ah, ma lo vedo la fine. Questa è la sfida della sfida, ragazzi. Raga, cosa stai combinando? Cento esplosioni, mi sa. Questa è la sfida della sfida, raga. Raga, ma quando finisce la notte che abbiamo fatto in tempo adere? Non lo so. Non lo so. Però qua c'è una gara a chi non molla. Ragazzi. Basta fare un passo indietro e l'altro va. Non avete idea, mi dico. Ma questo non accade. No, no, macchinino, ti prego, no. No, no. Attenzione. Eh, raga, se vi raggiungo vi butto giù. Marcia ha perso un po' di strada, eh. Ma questo non è arrivato. Sì, ma c'è la sfida nella sfida, c'è. C'è la salitina finale. Ok, ok. A prova di vecchietto zoppo, però noi stiamo bloccati con le auto. Adesso gli sbatto giù, Fere. Dai, vieni Marco, devi venire anche te. Sali. Ciao. E a chi sale qui. Attenzione, arriva lui. Ciao. Rimette. È andato giù. È andato giù. È proprio un non campioncino, lui. Ma ragazzi. È un non campioncino. È una roba incredibile. Sei caduto? Io speravo in lui per mettere un po' di gioco qui. Ma è caduto? Io sto finendo le ruote. È un po'. Lo sta tornando. Ciao. Ti devi spingere. Arrivo io, ragazzi. Tranquilli. Eccomi, sono arrivato. No, non vale. Conta solo con l'auto, campione. Sono arrivato anche con l'auto. No, no, no. Sì, sì. Non c'è, non la vediamo. È arrivata Fere, è arrivata Fere. Vai, muovetevi. Spingi, spingi. E ci provo. Mi sono incastrata. Ragazzi, tutto bene? Ma siamo incastrati del tutto. Sì, siete incastrati. Sì, ragazzi, siete incastrati del tutto. Raga, mi avete incastrato pure me. No. Perché ma c'è caduto? Però non va. Raga, non passo lo stesso, anche se sono solo. E questa è la vera scoperta di oggi. Fere! Oh, Fere, aiuto, via! Aiuto! Fere! Aveva mai finita, dai. A me le ruote non ci passavano. Ce la facciamo! Ce la facciamo! Ce l'ho spinto io, guarda. Ce l'ho fatta! Io sono passata con una facilità disarmante, Steph. Che problemi ha avuto? Marci, mi spingi via, per favore, da qua. Ma come faccio? Aspetta, dove? Devi venimi addosso qua. Vi aiuto, raga. Caratretti! Ho un metodo infallibile, raga. Ho un po' di più, Steph, ok? Grazie. Ok. È un po' meglio. Sotto il tempo ha funzionato, però. Allora, diamo una mano a Marci. No, ragazzi. Non è stato legit da parte vostra. No, però ti avevano dato una mano. Calmo! Non fare il campioncino, Marci, dai. Dai! Vai a dormire, Marci. Tanto il vero vincitore sono io. Io qui vedo solo due auto, Steph. Lo sei d'accordo? Sì, anche io. Steph, Marci ti sta buttando l'auto giù dal monte. Marci! Grazie. Almeno devo far fatica. Allora, Marci non tornerà più nel monte, comunque. Perché? Perché adesso ti mando talmente tanto giù che non torni più. No, tranquillo. Adesso torno su. Comunque, ha vinto Fere. Ha vinto Fere? Eh, non c'è la tua macchina. Beh, Steph, io ti ho aiutato, ho rincastrato da due ore. Sono arrivata io, ti ho spinto e hai vinto. Quindi la vittoria è anche un po' mia. Ti tolviamo un attimo. Steph, non bruciarmi l'auto. Ti ho messo male. Secondo me vale chi ha l'auto sopra. Quella di Steph non c'è. E non c'è più neanche quella di Fere. Eh, ci sono le mie di Marco. Allora abbiamo vinto io e Marco. Dove? Eh beh, sono lì. Io le vedo comunque, sono lì. No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti ho detto che tu nel monte non torni più. Ok. Ancora più giù ti faccio andare. Fere! Per me sei un po' cattivo. No, Marco, dove non c'è? Però... Io l'unica cosa che... Comunque Marco è stato proprio cattivo. Io l'unica cosa che direi... L'unica cosa che direi è ciao a tutti e basta. Così? Sì. Ma senza outro? Allora la faccio io l'outro. No, 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 no. Io voglio l'outro di Marco. No, no, io voglio l'outro di Marco. Io le immagino mi ha ispirato. Ragazzi, mi diamo a mano. Scegliete un'altra cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Questa non è una vera auto. Bene! Ho rite tutto. Chi deve fare l'outro, ragazzi? La rifaccio bene, dai. Qualcuna faccia l'auto. La faccio bene, dai. Allora. Ci prima di questo video, ragazzi. Qua sotto con poi, in altri video, iscrivete al canale, ti vedete a campanese. In un prossimo video Ciao a tutti Ciao